Il Consiglio Comunale di Arezzo, su proposta dell'assessore Marco Sacchetti, ha deliberato l'adozione del piano territoriale finalizzato a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi magnetici. Il piano che è stato adottato stamani consiste sostanzialmente nell'individuazione delle zone dove è possibile installare delle antenne per dati cellulari e dati di fonia. È uno strumento di pianificazione con allegato regolamento che sostanzialmente individua le modalità con cui poi i gestori potranno fare richiesta per l'installazione di nuovi apparati. Consiste sostanzialmente in questo. Il piano è stato predisposto dai professionisti esterni che contiene al suo interno tutta una valutazione anche sugli effetti dei campi elettromagnetici indotti nello stato attuale e nella nuova proposta di piano. Il prossimo passaggio sarà l'approvazione definitiva. La fase di pianificazione è partita stamani a un iter che prevede un tempo di 60 giorni tra pubblicazioni e osservazioni da parte di chiunque, dei cittadini, degli stakeholders e poi dopo ripasserà in consiglio del comunale per la successiva approvazione definitiva. A quel punto diventa cogente, diventa lo strumento efficace per il territorio comunale. Grazie.